Prima la Santa Messa, poi l'arrivo della Befana dal cielo in discesa su decine di bambini festanti che attendevano il loro dono. L'epifania è stata celebrata anche all'interno del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gaeta, perché portare un sorriso rientra anche questo nei compiti dei pompieri. È un momento di aggregazione fra la comunità e noi che operiamo sul territorio. Essere Vigile del Fuoco è un orgoglio personale mio e di tutti i colleghi, è un mestiere, è un lavoro che dà delle grosse soddisfazioni. Portare un aiuto, un sorriso a chi ne ha bisogno fa parte del nostro credo. E di Vigili del Fuoco, un corpo che sta sempre più entrando nel cuore degli italiani, vuole avvicinarsi ancora di più alla popolazione anche con iniziative come questa. Grazie anche a Don Riccardo Pappagallo, il parroco di Gaeta, che ci ha avvicinato molto quest'anno e anche gli altri parroci, merito loro. Diciamo che negli anni abbiamo costruito questo rapporto che è duratura e quindi la comunità risponde sempre a qualsiasi cosa noi facciamo. Una giornata che ha visto molte menti ed altrettante braccia lavorare per conseguire i risultati ottenuti. La prima cosa è ringraziare il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nel nome dell'ingegnere Maurizio Liberati, che ha dato modo e adito di fare questa manifestazione. Soprattutto al gruppo SAF del comando di Latina, che è coordinato dal caporeparto con Padangelo Vendesto e dal funzionario notariani Batteo. E ringrazio tutti i partecipanti, tutti i colleghi che hanno dato una mano a questa manifestazione, sperando di farne ancora meglio l'anno prossimo. Ed un pensiero non può che andare a quei colleghi che sono ad affrontare il freddo e le macerie nell'inferno lasciato dal terremoto dei mesi scorsi. Un grosso in bocca al lupo, purtroppo gli eventi ci portano a stare lontano da casa e un po' tutti a giro ci stiamo andando. Spero tanto che questa storia finisca al più presto e che si possa riportare anche serenità alle famiglie che stanno lì e che stanno soffrendo il freddo come noi.